Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Is your life just a game? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! La partita della vita è un duello senza appello. Scegli il campo e in un lampo le tue mosse e contromosse. Fra le tue carte sceglierai la migliore e in un momento capirai il tuo valore. Yu-Gi-Oh! Giochi sempre distinto perché ogni carta è più forte con te. Come tutti gli eroi, tu sbagliare non puoi, gioca e vinci per noi. Yu-Gi-Oh! Con astuzia tu sconfiggerai i nemici più scuri che hai. Se ti concentrerai e adattacco tu andrai, la partita GX vincerai. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Is your life just a game? Yu-Gi-Oh! 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 GX! Grazie a tutti.